Intanto questo è uno dei tanti progetti che fanno parte del piano trasportaliero Alcotra ed è uno dei progetti che riguarda i rischi, la comunicazione dei rischi e gli interventi che sono conseguenti ai rischi nei confronti della popolazione. Quindi si può andare dall'episodio più recente del Covid come si può andare agli incendi boschivi, alle alluvioni e tutto. A proposito di percezione e di comunicazione del rischio ai cittadini, lei ha portato l'esempio del comune di cui è stato sindaco, Capriata d'Orba in provincia di Alessandria. Sì, il mio comune è soggetto a un'area esondabile dal torrente Orba in provincia di Alessandria, al comune di Capriata d'Orba. Abbiamo delle abitazioni rurali che sono soggette ad essere alluvionate. Ci impone la norma che come abbiamo il bollettino della protezione civile dobbiamo fare evacuare. Molte volte non era tanto la comunicazione del rischio e la percezione del rischio quanto le difficoltà che ci sono dietro un'evacuazione. Questo era un po' l'esempio che ho portato io. Ci sono stati confronti anche con gli altri sindaci. Diciamo che il tema che più viene percepito oggi sulla comunicazione del rischio è quello di ampliare la fascia digitale, di comunicazione digitale e informatica, ecco, perché quello è quello che dà più immediatezza alla comunicazione con la popolazione. Una testimonianza importante a seguito di esperienze molto recenti è quella del comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Avete dovuto gestire situazioni molto particolari. Una delle ultime emergenze è stata un rischio di alluvione idrogeologica, chiaramente, del paese. Abbiamo rischiato per pochi centimetri di andare sott'acqua ancora una volta. Ci sono stati episodi in cui abbiamo dovuto evacuare delle persone, delle piccole unità abitative e delle unità agricole. E quindi abbiamo imparato che è importante avere sul territorio l'informazione diretta, la percezione diretta di quel momento del dato e della situazione di difficoltà. E questo l'abbiamo sviluppato, una rete di informazioni, alla base del nostro piano di emergenza comunale, e abbiamo attuato quelle che erano le procedure. E' andata bene perché abbiamo trovato comunque un'ottima collaborazione con il Corpo di Volontariato, con il Vigile del Fuoco e quant'altro. E questo è stato molto importante. Ripeto, è molto importante avere certezza dei dati nel momento dell'emergenza. E questo è fondamentale. Sapere se è una strada aperta, una strada chiusa, è un dato di fatto. Bisogna avere la perfetta conoscenza del territorio per potersi muovere di conseguenza.